Ieri, Sergio e Dio, siamo stati attirati da questo articolo. Sì, che dice che appunto la vita moderna può essere stressante, nel migliore dei casi, con pressioni su di noi da tutte le angolazioni, mentre ovviamente siamo sul posto di lavoro, teniamo il passo con le faccende domestiche, per alcuni corriamo dietro ai bambini, mentre pensiamo di potercela fare da soli e a volte lo stress invece può accumularsi e non ce ne rendiamo conto e questa cosa poi ci distrugge. Questi si chiamano piccoli traumi, lo dice la dottoressa McGarroll, ma noi ci fidiamo poco, ci fidiamo molto di più della nostra psicoterapeuta di fiducia che è la dottoressa Eleonora Iacobelli. Buongiorno Eleonora, benvenuta. Buongiorno, grazie di essere con noi. Che cosa sono questi piccoli traumi Eleonora? Beh, sono tutte quelle cose a cui noi ci troviamo durante la nostra giornata. L'articolo parlava di appunto svegliarsi la mattina, dover preparare la colazione, preparare i ragazzi, preparare i figli, portarli a scuola, stare nel traffico, arrivare in ufficio e poi trovarsi diciamo non accolte sufficientemente dal proprio capo, comunque siano apprezzate per il nostro lavoro. Vabbè, difficoltà di tutti i giorni però, no? Ecco, difficoltà di tutti i giorni. Ma tutte queste difficoltà poi insommate una dietro l'altra... Si accumulano e diventano un grande stress. Diventano un grande trauma? Allora, sicuramente aumentano i nostri livelli di stress, soprattutto se non abbiamo una buona resilienza. Ovviamente è abbastanza soggettivo, perché dipende un po' da come noi viviamo determinate cose. Un po' il non essere apprezzati, per esempio a qualcuno potrebbe non dar fastidio perché è convinto delle proprie capacità, ad altri invece potrebbe metterlo in difficoltà. Ad altri gestire i propri figli invece è un piacere, una cosa che lo soddisfa, lo appaga, invece per altre persone potrebbe essere molto stressante. Quindi diciamo che è tutto relativo rispetto ai nostri vissuti. Questo è evidente, non si può generalizzare. Però forse si può provare a individuare qual è la cosa che ci dà maggior stress e a ragionarci sopra. Potrebbe essere la via? Indubbiamente, perché è comunque una cosa importante, perché poi va ad incidere su tutto il nostro benessere, anche psicofisico. Come facciamo ad affrontare queste cose con leggerezza? Non esiste una ricetta per tutti, no? C'è chi si arrabbia nel... Ecco, pensate alla vita di tutti i giorni. Non trovi posto, il parcheggio, il traffico, i ritardi, il collega che ti... Cioè siamo veramente... Siccome non possiamo vivere su una montagna, come gli anacoreti, perché probabilmente in quella maniera avremmo risolto il problema. Esiste un consiglio generale, dottoressa? Sicuramente sì. Sì, diciamo cercare di soffermarsi a vivere ciò che si sta vivendo, cioè senza andare sempre avanti, senza andare sempre al minuto successivo e ad aumentare il nostro stato di agitazione e di stress, perché noi abbiamo la sensazione che prevedendo possiamo essere preparati e quindi avere sotto controllo le situazioni. In realtà non è esattamente così, perché quello che succede è che in verità aumentiamo i nostri livelli di stress e di apprezzione. Quindi soffermiamoci su quello che stiamo facendo, facciamo una cosa alla volta. Ecco, quindi più proviamo a controllare la realtà e gli altri, più aumentiamo i nostri livelli di stress. Come si chiama questa maniera del controllo, dottoressa? Sì. Si chiama maniera del controllo? Beh, insomma, credo che l'abbiamo sperimentata. Molto diffusa. Molto, molto diffusa. Grazie, dottoressa Iagobelli. Alla prossima e buona giornata. Buon lavoro. A voi.